Ciao a tutti ragazzi, oggi come vedete parliamo di piccozze, nel particolare vedremo un po' i vari modelli di piccozza che esistono, i materiali, le certificazioni, ma soprattutto alla fine vi darò qualche mio consiglio personale per l'acquisto, ma iniziamo subito col video. La prima caratteristica delle piccozze che vediamo è il materiale. Esistono delle piccozze fatte in alluminio, il cui pregio numero uno è la leggerezza. Tendenzialmente queste qua vengono utilizzate principalmente per lo scialpinismo, comunque per uscite molto lunghe anche di diversi giorni. Sono le più leggere, però sono anche quelle che diciamo che hanno le prestazioni minori, nel senso che sono quelle che più facilmente possono andarsi a flettersi, avere problemi strutturali sul manico e via dicendo, proprio per natura del materiale. A livello di prezzo diciamo che sono quelle a metà, perché le più economiche sono quelle in acciaio. Dipende poi naturalmente anche la lega d'acciaio utilizzata, perché qui i prezzi possono variare, e a livello di peso diciamo che tendenzialmente sono anche le più pesanti. Dipende qua anche la lega che viene utilizzata, perché molte volte come peso si avvicinano veramente tanto a quelle in alluminio. Dal canto loro però l'acciaio come materiale è forse anche il più longevo, è quello che a livello di qualità prezzo è sicuramente quello che ci dà le prestazioni migliori. Poi in assoluto quello più prestazionale è il carbonio. Viene utilizzato principalmente sulle piccozze da cascate di ghiaccio e dry touring, ed è anche naturalmente il più costoso, sia per natura di materiale sia anche per la lavorazione. Però è anche il più tecnico, quindi diciamo che se dovete scegliere una piccozza per fare della roba estremamente tecnica, si può aver senso anche andare sul carbonio. Il secondo aspetto che vediamo sempre sui manici è la loro certificazione, perché ci sono due tipi di manici, quelli certificati B e quelli certificati T. Cosa vuol dire? Che se utilizziamo una piccozza come corpo morto a cui appenderci, il manico certificato tipo B ha una resistenza garantita fino a 250 kg. Il manico invece certificato tipo T ha una resistenza garantita fino a 400 kg. In soldoni questo cosa vuol dire? Vuol dire che su una piccozza di tipo B, sinceramente vi sconsiglio fortemente di utilizzarle come corpo morto, perché va bene, magari non pesiamo noi 250 kg, però lo strappo che potrebbe avere potrebbe superare anche i 250 kg. Una piccozza di tipo T, invece, ha molto più senso anche andare ad utilizzarla come corpo morto. Consiglio mio spassionato è, se dovete risparmiare fino all'ultimo centesimo, allora andate su una piccozza di tipo B, generalmente se ne si trova solamente sulle piccozze d'alpinismo classico. Se invece avete qualche soldino in più, e si parla veramente di pochi spiccioli, andate già su piccozze di tipo T. Quelle se ne si trova sia dalle piccozze per alpinismo classico, a tutto poi quello che è tecnico, dove esistono solamente le piccozze di tipo T. Terzo aspetto che guardiamo sui manici è anche la loro curvatura. Ne esistono di tre tipi. Piccozze con manico dritto vengono utilizzate solamente per alpinismo classico, ci aiutano anche nel movimento, perché lo utilizziamo un po' come bastoni, e sono pensate da utilizzarle solamente come arresto in caso si scivoli. Piccozze, diciamo, con semicurvature, ovvero piccozze utilizzate per fare sia dell'alpinismo classico, sia dell'alpinismo un po' tecnico, come possono essere qualche canale. Qui, diciamo, sono anche di solito le più diffuse. Ed esistono poi invece quelle con la curvatura maggiore, che sono quelle pensate per fare l'alpinismo estremamente tecnico, e anche le cascate di ghiaccio. E infine, per quanto riguarda i manici, anche la lunghezza. Le piccozze d'alpinismo classico sono le più lunghe, esistono anche in varie taglie in base alla nostra altezza. Diciamo che potremmo vederle un po' come anche dei bastoncini da trekking, che nel caso ci aiutano ad arrestare la discesa. Piccozze tecniche, invece, hanno una lunghezza standard. Di solito stanno sui 55-60 cm. Le piccozze poi, quelle da cascate di ghiaccio, possono essere ancora più piccole. Diciamo che tendenzialmente facciamo due distinzioni. Quelle lunghe per l'alpinismo classico, e quelle più corte per l'alpinismo tecnico. Per quanto riguarda, invece, l'impugnatura delle piccozze, diciamo che qui dipende un po' da produttore a produttore. Abbiamo dei produttori che vanno a mettere, anche sulle piccozze classiche, delle impugnature nella parte bassa in gomma, magari quelle già un pochino curvate, proprio per poterle utilizzare per la penetrazione. Sulle piccozze d'alpinismo classico, proprio classiche dritte, di solito non si trova in pugnatura. Sulle piccozze tecniche, dipende un po' anche qua da produttore, possiamo trovare magari delle parti un pochino più gommate per tenerle mani, possiamo trovare proprio delle impugnature fatte apposta, per riuscire proprio a utilizzarle al meglio. Si va poi fino a piccozze da cascate di ghiaccio, che lì hanno proprio delle impugnature studiate apposta. Diciamo che qua va un pochino in base al produttore. Il mio consiglio è, se dovete andare su piccozze d'alpinismo classico, anche se non hanno un'impugnatura, fa niente. Piccozze d'alpinismo tecnico, ecco, già lì magari un'impugnatura in gomma torna veramente molto molto utile. Piccozze d'alpinismo super tecnico e cascate di ghiaccio, naturalmente dovete prendere una con impugnatura molto ergonomica, che vi aiuti molto, che abbia anche un buon grip. Il mio consiglio personale è, quando andate ad acquistarle, magari portatevi anche il vostro guanto di fiducia, così da provare direttamente il grip tra la piccozza e il vostro guanto. Arriviamo dunque a capire anche come è composta una piccozza, perché fino ad adesso abbiamo visto solo i manici. Le piccozze, generalmente quasi tutte, tolte magari quelle per le cascate di ghiaccio, hanno nella parte inferiore una punta. Questa punta ci aiuta a penetrare il ghiaccio nel momento in cui lo utilizziamo per fare dell'alpinismo classico, dell'alpinismo tecnico. Davvero, questo ci aiuta proprio nel momento in cui dobbiamo andare a infilzare la piccozza nel ghiaccio, a penetrarlo meglio, molto facilmente. Per quanto riguarda invece la parte superiore, diciamo che è quella più interessante, perché abbiamo nella parte posteriore la possibilità di avere o un martello o una paletta. La paletta ci serve per andare a scavare nella neve o un pochino nel ghiaccio e crearci dei gradini per la progressione. Il martello invece, beh, facilmente intuibile, serve per martellare i chiodi da mettere nella roccia e per soccorrersi in caso di vie particolarmente complicate. Esistono poi anche delle piccozze che praticamente non hanno nulla dietro. Tendenzialmente sono quelle pensate per le cascate di ghiaccio perché in quel caso non ci serve né il martello né la paletta. Cosa vi consiglio di comprare? Allora, diciamo che sulle piccozze d'alpinismo classico di solito si trova la paletta perché è la più utile. Quelle d'alpinismo tecnico si può trovare sia la paletta sia il martello. Su quelle d'alpinismo tecnico il mio consiglio visto che se ho il dito si comprano in coppia prendete una col martello, una con la paletta che in qual caso vi possono tornare utili tutti e due. La grande differenza però che troviamo è sulla becca. Di becche ne esistono tantissime. Non ha neanche senso stare a fare un confronto perché ne esistono in base ai vari costruttori, in base al tipo di piccozza e via dicendo. È un mondo un po' a parte. Vi basti sapere che ci sono due tipi di becche. Quelle diciamo che hanno una curvatura longilinea tendente al basso che sono quelle proprio per alpinismo classico. Queste becche ci aiutano semplicemente a fermarci nel momento in cui magari stiamo scivolando e via dicendo. Esistono invece poi sulle piccozze tecniche le becche cosiddette sbananate ovvero si vede che hanno una curvatura accentuata e tendono ad essere abbastanza orizzontane nella parte finale. Queste qua sono fatte apposta per penetrare il ghiaccio quindi se dovessimo andare in battuta questo tipo di piccozza penetra molto più facilmente in ghiaccio rispetto a una becca più tradizionale. Esistono poi altri due accessori che si possono acquistare insieme alle piccozze. La dragonna che in questo caso molte volte viene fornita di serie insieme alla piccozza serve per tenere la piccozza attaccata al nostro braccio e basta. Serve proprio per non perderla. Tendenzialmente si trova sulle piccozze alpinismo classico. Esistono poi invece le lounge per le piccozze alpinismo tecnico queste tendenzialmente bisogna comprarle a parte e praticamente servono per attaccarle all'imbrago ed essere sicuri che anche qua di non perderle e nel caso che non cascano giù quando stiamo facendo magari dei canali. Mio consiglio acquistatele a parte se ce n'è bisogno perché veramente tornano molto utili perché perdere una piccozza su un canale di ghiaccio per esempio può rivelarsi veramente un grosso grosso problema. Arriviamo dunque ai miei consigli personali ai consigli per l'acquisto. Cosa vi consiglio di acquistare? Se volete fare alpinismo classico avete diciamo due chance o risparmiare fino all'ultimo centesimo e in questo caso si possono trovare anche delle piccozze sui 40-45 euro che comunque per fare delle classiche sui 4000 ci possono anche stare se invece avete già qualcosa da poter spendere diciamo che sui 60-70 euro si possono trovare delle ottime piccozze mi raccomando la lunghezza che deve essere la lunghezza giusta per la vostra altezza vi consiglio già una piccozza di tipo T in questo caso magari già con una semicurvatura perché comunque potrebbe un pelino aiutarvi in caso di qualche cresta qualche passaggino un po' un po' più complicato diciamo che però tendenzialmente questo tipo di piccozza di 60-70 euro si va via abbastanza facile poi ne esistono davvero tantissime per chi vuole invece andare a fare dell'alpinismo tecnico ma non super super tecnico diciamo semplicemente qualche cresta qualche canalino eccetera allora andiamo su delle piccozze che hanno già una bella becca sbananata si compra una coppia come dicevo prima con martello e con paletta come lunghezza in questo caso sarà standard le classiche 55 cm a livello poi di curvatura queste sono già abbastanza curvate comprateci una longe dietro perché davvero vi può tornare molto molto utile come prezzi diciamo che tendenzialmente stiamo sui 100-150 euro a piccozza singola tenete conto che dovrete moltiplicarlo per due per prenderle entrambe a mio parere personale queste secondo me sono anche quelle più consigliate un po' per la maggior parte delle persone perché davvero qua ci si può fare dal alpinismo classico e va bene magari è un pochino più difficile perché sono un pochino più basse come piccozze all'alpinismo tecnico quindi se dovete fare un unico acquisto io vi consiglio di andare su queste che sono la via di mezzo costano un pochino di più però secondo me vi consentiranno di fare anche molte più uscite se invece andiamo sull'alpinismo tecnico molto molto tecnico e anche magari qualche cascata di ghiaccio semplice andare su delle piccozze che hanno già un bel manico una bella curvatura hanno già magari anche tutta la parte di becca apposta per ghiaccio bello duro piccozze che però hanno un certo prezzo tendenzialmente queste piccozze a singola piccozza si trova su 150 200 euro anche qua va moltiplicato per due se invece dovete fare cascate di ghiaccio tra i touring in quel caso ci sono le piccozze apposta hanno dei prezzi abbastanza alti parliamo anche di 200-250 euro a singola piccozza vabbè quelle sono proprio un mondo a parte sono proprio delle piccozze pensate per fare quello e lo trovate probabilmente scritto sui siti dei produttori che quelle piccozze sono proprio pensate per quello specifico utilizzo detto ciò ragazzi io nella speranza deve vi aiutare ad acquistare la vostra prossima o la vostra prima piccozza vi ringrazio per aver guardato questo video qualsiasi domanda potete lasciarmela qua sotto nei commenti e noi ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao